Benvenuti al punto una nuova trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'attività dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria con due ospiti come sempre, andiamo a conoscere quelli di oggi, è Oliviero Dottorini, presidente della prima commissione dell'IDV e poi Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia. Allora cominciamo con un argomento, cominciamo da Nevi stamattina, un argomento che essendo di Terni insomma l'ha interessata in prima persona come ha interessato il Consiglio regionale dell'Umbria e poi chiaramente approfondiremo il tema anche con Dottorini. Mi riferisco all'AST, la ciaierie speciali di Terni, alla fine è arrivata una soluzione probabilmente non ottimale, a sentire un po' i diversi commenti, però insomma si è arrivati a una soluzione che lei definisce come Nevi? Una soluzione chiaramente di mediazione perché ci sono delle esigenze contrapposte dell'azienda da una parte, dei lavoratori della comunità locale in generale dall'altra. Io penso che però sia un punto di equilibrio abbastanza importante da cui si può partire per andare avanti nella speranza che poi alla fine la situazione economica del Paese si muova e si riprenda un po' e quindi trasporti anche le aziende importanti come l'AST che risentono evidentemente anche dello Stato, così del mercato interno. Quindi ci sono ancora delle questioni abbastanza importanti che vanno discusse ancora un po', penso al tema degli impiegati, penso al tema delle ditte esterne, ma insomma si è ripreso a produrre e questa è una cosa molto importante perché se fosse andato avanti ancora il blocco della produzione avremmo perso clienti molto importanti e quindi al danno sarebbe aggiunto un altro danno. Io penso che ancora una volta i dipendenti, gli operai delle acciaierie sono stati molto seri e responsabili e hanno fatto prevalere appunto l'interesse di salvaguardare l'azienda stessa, anche se chiaramente ci sono, ci saranno dei sacrifici da fare anche da parte loro. Ha mai pensato ad un epilogo diverso da questo? Cioè è stato pessimista? Sicuramente, sinceramente no, nel senso che io so che quell'azienda è un'azienda sana, un'azienda importante, un'azienda moderna, quindi sarebbe stato veramente assurdo che non ci fosse stato un accordo per andare avanti. È chiaro che il mondo cambia, l'economia cambia ancora più velocemente e quindi anche queste aziende che sono inserite nella competizione globale hanno continuo bisogno di essere riposizionate così sul mercato e questo produce effetti anche di una qualche stabilità nel tempo. Dottorini, abbiamo parlato di AST perché rappresenta insomma la parte maggiore, anche dal punto di vista della preoccupazione che non riguarda soltanto Terni ma l'Umbria intera per quello che rappresenta anche in virtù della forza lavoro impiegata, ma ci sono tante altre vertenze in Umbria. Ecco, qual è la sua fotografia del momento che ormai si potrà da molto tempo in Umbria? Sicuramente la vicenda AST dà un esito positivo, ovviamente un esito di mediazione perché non è evidentemente la situazione ottimale, ma devo dire che in questa circostanza il fatto, una lotta molto serrata dei lavoratori anche in maniera eclatante, l'essere riusciti a porre questo tema sul livello nazionale e questo insegna anche probabilmente, farà da scuola anche altre vertenze della nostra regione, unito a un impegno serio, costante, delle istituzioni Umbre perché quando c'è va detto, in particolare la Presidente Marini è stata in prima linea su questa vicenda fin dal primo momento e noi l'abbiamo visto perché è stata per intere giornate fuori dall'Umbria a Roma per condurre questa trattativa, portano a un esito sostanzialmente positivo, ovviamente non è ancora del tutto risolta quella vertenza, però diciamo si è incamminata per il verso giusto. Certo, lascia comunque in sospeso e risolte questioni più basilari, il ruolo delle multinazionali nella nostra regione, come vogliamo indirizzare la nostra economia, una riconversione del nostro modello economico e in più per quanto riguarda soprattutto quel territorio, la città di Terni, anche forse occorrerebbe un'attenzione e focalizzare anche i temi ambientali accanto a quelli occupazionali perché stanno emergendo da alcuni, da quanto ci risulta soprattutto dai mezzi di comunicazione, adesso abbiamo richiesto anche noi delle informazioni ma da alcune segnalazioni che avrebbe fatto ARPA che c'è la tematica ambientale da monitorare bene perché noi abbiamo altri esempi nel nostro paese di cortocircuiti da questo punto di vista e quindi non vorremmo che anche in quel territorio, oltre ai problemi occupazionali, ci fosse da occuparsi anche di altri temi altrettanto importanti legati all'ambiente e alla salute. All'economia sono legati altri fattori, all'investimento di multinazionali o imprese comunque locali o nazionali e riguarda le infrastrutture. Tocchiamo un tema che vi ha visto spesso in contrapposizione, ad esempio la E45, autostrada, non autostrada, insomma chi viene a investire in Umbria probabilmente ha bisogno anche di altre risposte, ma basta soltanto modificare secondo lei, dottorini, una strada per arrivare a soluzioni oppure l'Umbria manca a livello infrastrutturale di altre situazioni? Assolutamente non basta, anzi questo è il classico specchietto per le allodole oppure fumo negli occhi degli Umbri, quello che è in cantiere è la privatizzazione di un'arteria che è fondamentale per la nostra regione, tutto sulle spalle dei cittadini perché sarà un pedaggio molto pesante, noi abbiamo fatto delle simulazioni e viene che vengono dei costi altissimi, se si pensa da Perugia a Terni 12 euro per un'automobilista, mentre per un piccolo imprenditore che dovesse viaggiare con un camion o con anche un furgone di grandi dimensioni, quindi i padroncini nostri regionali la tratta quasi raddoppierebbe, si passerebbe da 12 euro a 24 euro, se pensiamo l'andate e ritorno 50 euro un piccolo imprenditore per andare da Terni a Perugia andate e ritorno. Oggi che sta venendo alla luce questo grande inganno, fino a oggi c'è stato sempre detto, no ma vedrete che per i locali il pedaggio non ci sarà oppure sarà molto più leggero, oggi emerge in tutta evidenza perché finalmente iniziano a uscire le carte che questi alleggerimenti non ci saranno e che sarà tutto sulle spalle dei cittadini ed è anche dei residenti perché è assurdo dire che i residenti avranno un trattamento di favore e quello che dicono in Emilia Romagna, quello che dicono in Veneto e quello che si dice in Umbria se nessuno lo pagherà questo pedaggio, l'opera chi la pagherà? E quindi questo è molto grave, per fortuna gli Umbri la stanno comprendendo, c'è una petizione che verrà presentata a breve e che ha raccolto migliaia di firme, siamo già a più di 8 mila firme ma ancora sta proseguendo, anzi invito tutti a firmarla, si firma anche online e che ha raccolto un grande risultato, molti cittadini sono venuti a firmare e questo è un dato politico, i mezzi di comunicazione non l'hanno quasi per nulla riportato con l'eccezione della Nazione che ha riportato la notizia, stranamente si riportano tante cose ma quando ci sono 8 mila cittadini quella è una notizia che chiedono qualcosa, quella è una notizia che passa in secondo piano, ma questo è il dato, l'Umbria non ha bisogno di un'opera come questa, l'Umbria ha bisogno che quell'arteria venga messa in sicurezza, asfalto drenante e questo potrebbe essere fatto semplicemente investendo quella che andrà come defiscalizzazione in invece un'opera concreta. Lei la pensa diversamente a Dottorini su questo? No, la penso diversamente per quanto riguarda il pedaggio, nel senso che io rimango agli impegni presi dall'assessore regionale di cui Dottorini è parte importante della maggioranza che ha detto che gli Umbri non pagheranno il pedaggio. A mio avviso, quindi fino a prova del contrario, insomma vediamo quello che farà il governo regionale sia impegnato sia la Marine sia appunto l'assessore Rometti. Io penso invece che ci sia un enorme bisogno di avere un'arteria vera perché noi abbiamo un'autostrada, il problema è che è completamente sgangherata perché l'E45 basta percorrerla e si capisce di che cosa stiamo parlando, con un traffico pesante il peggiore perché chiaramente è il traffico pesante che non riesce a permettersi di andare sulla A1 e che quindi prende la nostra autostrada con un carico aggiuntivo anche di inquinamento perché quei mezzi sgangherati, vecchi, che passano sull'E45 inquinano molto di più. Quindi si tratta secondo me di metterla a posto, di coronare il sogno di avere anche in Umbria un'autostrada. Quando fu fatta l'autostrada del sole l'Umbria fu tagliata fuori. In tutto il mondo, tranne qui in Umbria perché siamo molto particolari, si lotta per avere l'autostrada che passa sul proprio territorio perché l'autostrada è fonte di sviluppo, di occupazione, di flussi turistici, di commercio di merci più semplici. Quindi è chiaro che intorno all'autostrada poi si creano anche delle grandi opportunità di lavoro e di sviluppo. Quindi tradizionalmente si dice che le zone più arretrate del paese sono quelle non servite da infrastrutture importanti come appunto sono le autostrade. Qui assistiamo esattamente al contrario, ma tanto non dobbiamo meravigliarci perché c'è chi si oppone al treno a alta velocità. Quindi in Italia ne abbiamo visto di tutto, ci siamo opposti al nucleare, ci opponiamo al treno a alta velocità, ci opponiamo all'autostrada, ci opponiamo ai biodigestori, ci opponiamo a tutto, ci si oppone salvo poi che per trovare lavoro bisogna regarsi fuori dall'Italia. Noi siamo per un altro tipo di impostazione, pensiamo che bisogna assolutamente fare in modo che ci sia più attenzione all'ambiente, più attenzione alla cura del territorio, ma bisogna fare delle infrastrutture sicure in cui si possa viaggiare in sicurezza e in cui chi ci viaggia, soprattutto chi viene da fuori regione e chi va fuori regione, paghi il pedaggio come succede in tutto. E' singolare questa, a Nevi, ma non solo a lui a dire il vero, perché questa, la E45 Autostrada, per essere corretta, è passata in consiglio regionale a larghissima maggioranza, una maggioranza trasversale che ha unito centro-destra, centro-sinistra con pochissime, rarissime eccezioni, ma piace fare, come si dice, avere la botte piena e la moglie ubriaca. Le autostrade solitamente hanno un pedaggio, non esiste al mondo un'autostrada senza pedaggio e il pedaggio ha quegli importi là. A dire il vero, l'assessore Rometti ha ricordato, come è, che l'entità del pedaggio non è potestà delle regioni, è potestà statale e il proponente del progetto ha presentato il suo piano finanziario e in cui si dice che il pedaggio sarà di 0,15 erotti centesimi a chilometro e di 0,29 erotti centesimi a chilometro per i piccoli imprenditori. Questo significa, quei dati che ho detto, andare da Città di Castello a Perugia sarà circa 8 euro, andata e ritorno fa 16 euro. Questo avrà un impatto sulle economie familiari e sulle economie della piccola imprenditoria, che è l'ossatura della nostra regione, pesantissime, insostenibili, altro che sviluppo. Ma forse 30 anni fa portavano le autostrade sviluppo. Oggi chi ha un'arteria come noi la abbiamo, come la E45 superstrada, se la tiene stretta, anche perché noi non abbiamo, è l'ossatura della nostra viabilità, noi non abbiamo alternative, a meno di non voler intassare le strade statali, provinciali e comunali come avveniva 50 anni fa, con i tir e con il traffico locale, completamente riversato su quelle arterie. Vuole ribattere oppure andiamo in un altro argomento? Noi abbiamo fatto proposte all'unanimità su questa cosa del pedaggio e il governo Berlusconi, certo il problema è che è cambiato governo, ma il governo Berlusconi mise nero su bianco attraverso il ministro dell'infrastruttura, che ci sarebbero state delle, se non minimo, diciamo, forti agevolazioni per i residenti e comunque si poteva assolutamente pensare al pedaggio gratuito. Quindi la questione... Se l'ha detto Berlusconi, stiamo tranquilli. Esatto, esatto, esattamente, bravo, è proprio così. Il problema è che non c'è più quel governo, ma comunque si è andati avanti su quello schema, ma è chiaro che il proponente deve mettere giù i costi e tutto quanto, quello che è necessario per raggiungere l'equilibrio finanziario, ma lì deve intervenire lo Stato, come tra l'altro succederà e si può pensare tranquillamente attraverso i cosiddetti, insomma, le stazioni cash flow, eccetera, che tecnicamente ci possono permettere, abbassando i costi, di esentare i residenti. Allora, entriamo perché avete dato un po' l'indicazione anche voi in un altro tema, che vi vede anche qui abbastanza contrapposti, che sono i rifiuti. La chiusura del ciclo, per cui esclusa in Umbria, sembra, la termovalorizzazione perché non ci sono neanche i materiali per alimentare un termovalorizzatore. Ci sono altre possibilità, tra le quali anche il CSS con possibili solidi secondari da poter bruciare all'interno di cementifici o strutture similari. Insomma, come andrà a finire il piano dei rifiuti e come si chiuderà questo ciclo, dottorini? Ma questo il dibattito deve ancora iniziare perché il Consiglio regionale non ha ricevuto alcun documento e alcun piano da parte della Regione. Un primo dato che assumiamo come un grande risultato per quanto ci riguarda, perché è quello che non ci saranno impianti di incenerimento nella nostra Regione. Quando tre anni fa eravamo soli in Consiglio regionale a sostenerlo, a sostenerlo, vabbiamo presi per pazzi dei visionari. Oggi quello è un dato. Non finiscono qua le insidie. Il CSS è un altro elemento molto insidioso, ma porta a un altro tipo di ragionamento. Io personalmente non sono contrario a prescindere a priori alla produzione di CSS. Bisogna capire come si inserisce, se la produzione di CSS va a compromettere il percorso di riduzione, riuso, raccolta differenziata, che in Umbria sta decollando solo oggi, positivamente, ma sta decollando solo oggi. Bisogna capire dove lo si brucia questo CSS. Perché un conto è produrlo e un altro conto è bruciarlo. Quando sappiamo che nel Paese ci sono tantissimi impianti sovradimensionati che aspettano materiale da bruciare. Bisogna comprendere tutte queste cose. Ma c'è un dato di fondo. È capire che cosa è prioritario. Il CSS risolverebbe, anche qualora lo facessimo, una quota piccolissima dell'intero ciclo. La quota maggioritaria, quella fondamentale, deve essere risolta attraverso politiche virtuose, attraverso il ciclo di riduzione dei rifiuti, della raccolta differenziata e del riutilizzo. E' lì. O si punta lì, tutto il resto sono tutti elementi secondari e di facciata. Nevi, se ci riusciamo in due minuti, poi passiamo ad un altro argomento. Ma, diciamo, mentre loro chiacchierano da quattro anni, si dividono in generitori, a cui noi abbiamo sempre detto no, nuovi impianti di incenerimento, zero impianti di incenerimento, eccetera, c'è un dato che i rifiuti conferiti nelle discariche aumentano sempre di più, le discariche si saturano sempre di più e questa giunta regionale ha autorizzato l'allargamento delle discariche, in particolare quella di Orvieto, le Crete. Allora, questo secondo noi è un sistema barbarico di gestione dei rifiuti e abbiamo impiegato quattro anni per far capire alla giunta regionale che era necessario avviare alla produzione dei CSS che non sono più rifiuti, ma un semplice combustibile che può essere bruciato in tutti gli impianti chiaramente dedicati a questo scopo, che sono, lo ricordo, i cementifici, esclusivamente i cementifici e le centrali elettriche. In Umbria abbiamo sia cementifici che centrali elettriche che attualmente bruciano carbon-cock. Allora il CSS assicurerebbe un impatto ambientale inferiore e assicurerebbe la chiusura del ciclo senza aggiungere altri camini, ma usando solo l'intelligenza. A noi sembra veramente l'uovo di colombo, ma dove poi si inserisce l'ideologia purtroppo non c'è nulla da fare. E quindi ancora oggi in Umbria si va avanti con grande incertezza, ancora oggi in Umbria non abbiamo un impianto per la produzione dei CSS, adesso sembra che la giunta regionale se ne sia convinta a modificare il piano regionale e io spero che entro breve si possa arrivare alla realizzazione di questi impianti, alla produzione dei CSS che comporterebbe che cosa poi? La diminuzione dei costi e la diminuzione delle tariffe. Abbiamo dei livelli di tariffe spaventosi, la gente non regge più, non possiamo continuare ogni anno a vedere aumentati i costi di conferimento in discarica perché significa che noi prendiamo dalle tasche dei cittadini sempre più soldi e i soldi non ci sono. Allora, cambiamo argomento, siamo in chiusura di trasmissione, stiamo registrando questa trasmissione mercoledì mattina, oggi è il 10 dicembre, quindi per chi ci segue vi dico anche l'orario in cui stiamo registrando e sono le 10 di mattina. Notizie d'agenzia sono gli arresti, 61 arresti nella notte nella provincia di Perugia e in altre località del territorio nazionale, 61 misure cautelari emesse su richiesta della procura estettuale antimafia di Perugia per associazioni di tipo mafioso, estorsione, usura, danneggiamento, banca rotta fraudolenta, truffa, trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante delle finalità mafiose nonché per la situazione finalizzata al traffico di superfacenti e sfruttamento della prostituzione. Sono stati sequestrati i beni per 30 milioni, non c'è stata ancora la conferenza stampa e quando sarete alla visione di questa trasmissione saprete sicuramente di più, ma la domanda per i nostri due ospiti ci sta, di sicurezza in Umbria si parla da tanto tempo, c'è stato anche ultimamente un incontro, un convegno organizzato dalla commissione antimafia e tossicodipendenze di questa assemblea legislativa con la presidente della commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi, cioè è venuto fuori alla fine una sintesi estremamente chiara, non ha radici in Umbria le associazioni di tipo mafioso ma infiltrazioni. Chiaramente dopo la notizia di stamattina bisogna, non so se rivedere qualcosa o altro. Dottorini, come sta l'Umbria? Che l'Umbria non fosse un'isola felice era abbastanza chiaro. Come diceva la sinistra fino a poco tempo fa. Come diceva la sinistra diciamo non ostacolata dal centro-destra fino a poco tempo fa era abbastanza evidente. Che vi fossero infiltrazioni, appunto c'erano gli elementi perché la stessa relazione della commissione regionale contro le mafie, le infiltrazioni malavitose lo aveva evidenziato così come alcuni altri dati. Qua mi pare che ci sia un salto di qualità perché invece l'entità, sono le prime notizie, quindi adesso la vedremo nei dettagli. L'entità del radicamento sembra aver fatto appunto un salto di qualità, sembra qualcosa di più significativo. Non so, non arrivo a dire che sia qualcosa di simile a quello che è avvenuto a Roma con mafia capitale perché lì c'è un collegamento anche col livello politico abbastanza stretto e evidente. Da qua, dalle prime notizie che emergono, non sembra, non voglio pensare che qua ci sia, non sembra questa la tipologia e le caratteristiche dell'intervento che è in corso proprio in questi minuti. Però è molto preoccupante, è molto preoccupante le infiltrazioni anche in settori come ad esempio quello delle costruzioni da quanto emerge qua, che appunto ci spinge a dire attenzione, bisogna veramente cambiare di segno alle nostre politiche perché forse si è andati un po' oltre e si sono lasciate le porte troppo aperte e lì anche da quei pertugi si sono infilate realtà che fino a qualche anno fa sicuramente l'Umbria non era un'isola felice però non era interessata da questi fenomeni. Ma che ci siano infiltrazioni purtroppo è certificato da tanti innumerevoli dati. Ora, che cosa si può fare? Innanzitutto, vabbè, certamente c'è un profilo che attiene alle forze dell'ordine, alle investigazioni, quindi a questioni sulle quali francamente possiamo entrare fino a un certo punto e sul quale invece deve entrare molto più pesantemente a mio avviso il Governo nazionale. Ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Quando dicevo che questa non è un'isola felice come hanno descritto fino a poco tempo fa i rappresentanti del centro-sinistra per difendere il loro operato, non dicevo una cosa a caso. Noi dobbiamo avere una pubblica amministrazione con la schiena dritta e con tolleranza zero verso un certo tipo anche di microcriminalità, non dico a questo livello, perché quando c'è un tessuto accogliente per la microcriminalità, dietro alla microcriminalità c'è la macrocriminalità, perché è evidente che se noi non contrastiamo efficacemente, per quanto poco ci competa, la contrastiamo, perché l'ordine pubblico è una tipica competenza statale, ma se non contrastiamo efficacemente attraverso i sindaci, attraverso i gangli della pubblica amministrazione sparsi sul territorio, la microcriminalità dopo al seguito arriva la grande criminalità e poi dobbiamo necessariamente costruire un sistema pubblico che punti molto di più sui controlli, sugli appalti, sulle certificazioni, dobbiamo fare meno norme, ma molto più efficaci e concentrare la pubblica amministrazione sul versante dei controlli, in questo modo daremo un contributo importante. Allora abbiamo, come vedete, un minuto e mezzo, parliamo un attimo di voi. Nevi, si legge sulla stampa che lei farà parte delle primarie per la candidatura a presidente di questa regione per il centro-destra, chiaramente, lei è come Forza Italia. Quanta verità c'è e se andrà così? C'è verità, nel senso che il coordinamento provinciale e comunale di Terni, e questo mi riempie di orgoglio, di gioia, ma mi ha chiesto di essere in campo per queste consultazioni popolari che ci saranno probabilmente nel mese di gennaio, io accetto ben volentieri per mettere la mia persona a disposizione di un progetto politico. Ho sempre detto che a me interessa più il progetto che non le questioni personali, in questi giorni si riunirà il centro-destra, apriremo le porte a chiunque vuole opporsi a questa sinistra. Noi pensiamo che la sinistra ha fatto male, ha gestito male, ha governato male, l'Umbria è sempre più povera, occorre un cambiamento. Per fare il cambiamento occorre essere uniti tra tutti quelli che vogliono il cambiamento. Le primarie sono uno strumento che può portare a questo obiettivo e quindi con questo spirito lo affronteremo. Dottorini, lei negli ultimi periodi, oltre ad essere capogruppo dell'IDV, però si firma anche come presidente dell'associazione per un'Umbria migliore. Questa è un'associazione che sta guardando la realtà dell'Umbria. Ma sì, ma non è una novità questa. Io ho sempre ritenuto che i partiti o sono in grado, le forze politiche, o sono in grado di aprirsi alla società e rendersi permeabile a quello che si muove realmente nella società, oppure si trasformano in consorterie in cui ognuno bada al proprio tornaconto personale senza perdendo di vista l'obiettivo. E quindi io, certo, continuo... Lei sarà in campo? C'erano prima i Verdi e Civici e adesso... Lei sarà in campo con questa sigla? Ma io se... no, non sarò in campo, sicuramente Umbria migliore non è sicuramente finalizzata a creare una lista. Io sarò in campo, se il centro-sinistra avrà un progetto di cambiamento reale e riuscirà ad aprirsi a queste istanze, io sarò in campo. Altrimenti... La vedo dura, invece invidiamo Dottorini a venire nel campo del centro-destra. Certo, e qui ci sono. Se vuole il cambiamento, l'unica strada è la nostra. Entriamo in altri contesti. Certo, aspettiamo molto, aspettare il cambiamento ovviamente dal centro-destra, come dire, come aspettarsi... Grazie per essere stati con noi, a Oliviero Dottorini, capogruppo di Italia dei Valori, presidente della Prima Commissione, a Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Grazie anche a voi per averci seguito, l'appuntamento è la prossima settimana.